Ehi! Allora! E' il momento! E' il momento della mia decimara! Adoro! Donne il vivo nel stadio! Scrivami! Allora! Behò di un evento! Ok! Assosso mio! Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Amiche? Siete pronti? Siete pronti? Faremo un pochino di Jardin Jack, un pochino di esterno coscia e inferno coscia. A te tesoro! A te della piada! Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.